Per la prima volta l'amministrazione comunale di Lanciano impegna una somma sostanziosa per il potenziamento della rete di deflusso delle acque bianche. Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo di Città l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna, in occasione della presentazione del piano relativo al 2019 del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Il sottosuolo spiega l'assessore a problemi di dissesto idraulico, come ampiamente documentato dalla cronaca della scorsa estate in città, dalla voragine aperta sotto i palazzi alla fine di Corso Trento e Trieste, al crollo di una porzione di condotta sotterranea nell'area del Malvaux. È in fase di conclusione lo studio affidato ai tecnici incaricati, riferisce l'assessore Verna. I 300 mila euro stanziati con il bilancio di previsione che sarà approvato in Consiglio Comunale la prossima settimana saranno utili ad intervenire per la messa in sicurezza, un'ipotesi concreta nell'attesa di conoscere la relazione finale dei professionisti a fine mese. Nei mesi scorsi ho sempre detto che mi sarei impegnato in particolare per due cose. L'edilizia scolastica per me è fondamentale, importantissimo la sicurezza delle scuole perché vanno i nostri figli all'interno delle scuole e mi sarei speso tantissimo per provare a intercettare all'interno del bilancio che andremo ad approvare da qui a qualche giorno fondi per la prevenzione rispetto al rischio idraulico della città di Lanciano. E quindi per la prima volta ho voluto dare un segnale tangibile che quello che avevo detto fino a qualche settimana fa solo a parole diventasse poi realtà e quindi ho voluto per la prima volta insistere. 300 mila euro che verranno finanziati con un mutuo, quindi con copertura finanziaria certa, per andare a investire non tanto o non solo su una nuova rete del deflusso acqua e bianche ma soprattutto rispetto al dissesto idraulico, quindi fare interventi che vadano oltre l'ordinaria amministrazione, interventi e quindi studi che ci mettono nella condizione e nella situazione di poter fare prevenzione rispetto ai problemi che ci sono nel sottosuolo. Il piano 2019 ammonta ad oltre 1.900.000 euro tra asfalti, edilizia scolastica, campo sportivo di Meco e la realizzazione degli uffici comunali a Palazzo 900 per i settori ambiente, commercio e sociale.